Era tutto calcolato. È vero, rifacciamo tutto. Grazie. Allora, grazie di essere venuti a questa presentazione. Grazie a Dasha Fusi di avermi chiesto di presentare questo suo libro. Volevo iniziare prima di tutto ringraziando Flavio Passi e le edizioni Effetto perché in questo mondo dove siamo oggi ospiti della cosiddetta microeditoria c'è, a mio giudizio, quello che dovrebbe essere l'editoria. Viviamo un'epoca un po' strana dove il nome editoria non sempre indica quello che c'è dentro. Nel caso di Flavio Passi e le edizioni Effetto, insomma, c'è un editore. Come dovrebbe essere? No, no, no. Questo non è un fatto di piageria affatto. È la verità. Flavio Passi, io ne posso essere testimone perché abbiamo una gestazione in corso. Asha, tu ne sei testimone. Assolutamente sì. Abbiamo dei colleghi anche che lavorano con lui, un editor che ha collaborato per tanto tempo e collabora con lui. Per Flavio Passi il libro esce quando è perfetto. E quindi questo è un rispetto nei confronti del lettore che è raro, è molto raro. Non è uno che sta vendendo una roba purché si venda, chi se ne frega. Non vende la copertina, anche se la copertina è molto bella. Parlando invece di questo libro di Asha Fusi, io vi posso portare la mia testimonianza come uno dei primi lettori. Asha, ci siamo conosciuti per messaggi, per un'iniziativa editoriale. Nasceva un giornale, a me capita per caso, poi bisogna capire se le cose succedono davvero per caso, un curriculum di Asha che aveva lasciato su una scrivania, lo trovo, proprio come nel Novecento, cartaceo. Dico, ah, guarda questa qua, quante cose che ha fatto. Ci sentiamo, mi dice, io sto scrivendo un libro e lo voglio pubblicare da sola. Io gli ho detto, Asha, guarda, se ti va, prova a mandarmelo, gli do un occhio, magari un editore lo si trova. Mi manda questo libro e io ricordo benissimo la sensazione di quando l'ho letto. Sapete, quando si legge il libro di un scrittore esordiente, il lettore parte avvantaggiato. Quando è Nabokov, quando è Tolstoi, tu apri il libro, ti inginocchi e se non ti piace ti senti un po' tu in difetto. No, dici, a me è capitato con Pasternak, premio Nobel per la letteratura, io sono durato otto pagine, però non è che chiudi dicendo che schifo. Dici, vabbè, non son degno. Chiudi. Quando l'autore è esordiente, come nel caso di Asha, tu sei comodo. A me è venuta questa immagine. Proprio sei come uno che va in spiaggia, no? Si mette lì comodo, lettore comodo, bello, tranquillo, dice, ciao, vediamo cosa succede. E se riesco a tenervi in questa immagine, che è stata la mia immagine del libro di Asha, è proprio questa, no? Immaginate, andate in spiaggia, belli, tranquilli, voi siete sulla sabbia, con il vostro asciugamano, tutto per passare un po' di tempo tranquilli, senza grandi aspettative. Ecco, aprite il libro e vedete subito, vicino alla spiaggia dove siete, una scogliera, dite, una scogliera. Voi vedete una figurina che si arrampica sulla scogliera. Una figurina che si arrampica sulla scogliera. E siete ancora comodi, eh, devo dire. A un certo punto, capite, questa figurina è un essere umano. Capite che il personaggio raccontato nel libro è un personaggio veramente che gronda vita e sangue dalla prima pagina e che sale questa scogliera e a un certo punto arriva a picco della scogliera. E voi non siete più molto comodi, anche se siete sul vostro asciugamano, perché siete lì che vi chiedete non è che adesso si... cioè, non è che si tuffa? E la pagina dopo si tuffa. E non è che si tuffa come i grandi scrittori, no? Che tu leggi un grande scrittore che si tuffa e vedi un po' Tania Cagnotto, no? Quindi la grande classe. Neanche un po' d'acqua. Ascia, giustamente, da esordiente, da persona che vibra in questo libro, si tuffa, disegna una serie di figure pazzesche durante questo tuffo, quando precipita nell'acqua fa un sacco di schizzi, ti bagni tu da lettore e poi fai l'ultima parte del libro e dici, adesso risale e ti viene il dubbio che riesca a risalire. Ovviamente non stiamo parlando di lei, che è l'autrice, ma di questo personaggio di fantasia raccontato nel libro che per caso si chiama Ascia come l'autrice perché ovviamente nessun autore sarebbe così pazzo da raccontare la sua vita in maniera così lineare come avrebbe fatto Ascia, no? C'è una grande differenza. Quindi io ho provato a portarvi questa che è la sensazione che ho provato io. Ed è una sensazione che trovate solo in un libro che nasce così, nasce davvero, non nasce perché voglio diventare la grande scrittrice, nasce perché c'è un sacco di roba da tirar fuori. Oggi abbiamo il problema di riuscire a parlarne senza guastarvelo, perché se noi iniziassimo a parlare di due o tre episodi che ci sono qui dentro, vi toglieremmo il piacere e l'esperienza, non il piacere perché non è solo il piacere, di entrarci dentro in questa storia dove è una storia dove veramente fin dalle prime pagine vedrete che c'è dentro c'è dentro di tutto e c'è dentro un coraggio pazzesco. Adesso io non so se i protocolli di sicurezza lo prevedono, ma un applauso anche solo per essere su questo palco con questo libro. Secondo me... Grazie. E quindi noi oggi abbiamo un po' questo problema di riuscire a parlare di questo libro, però con l'autrice del libro si può, ecco. Con la protagonista la conoscerete nel libro. L'autrice di questo libro invece, quando ha deciso di raccontare la storia di Asha? Qual è stato il momento in cui ho detto io adesso racconto questa storia? Allora, partendo dal presupposto che io ho iniziato a scrivere per me stessa. Io ho scritto sempre. Da quando ero piccola ho sempre scritto per me, per stare bene. Quindi questo libro non è nato come un libro. È nato come pagine di diario, come uno sfogo, come il bisogno di scrivere nero su bianco quello che non riuscivo a mettere insieme che mi aggrovigliava ai pensieri. Questo. Poi, successivamente, ho pensato che un libro così io lo volevo leggere. Io avrei voluto leggere un libro in cui mi si spiegava che certe sensazioni erano già state vissute ed era assolutamente normale. Però questo libro io non l'ho mai trovato. E quindi ho deciso di scriverlo io. Ho cercato di essere io quel libro per le persone che ne avranno bisogno. Quella fonte di ispirazione per cui dire sì, anche io soffro, anche io sono normale e anche io posso stare bene. Quindi questo libro è nato così. Ecco, in questo libro beh, la cosa che se volete potrebbe essere sulla quarta di copertina che la dice un po' il titolo è questo tema dell'adozione. Però appena io pronuncio le parole tema dell'adozione ho distrutto cosa succede davvero. Perché lì c'è... Prego, prego. Ne parlavo ieri a cena con Flavio purtroppo sull'adozione ci sono troppi troppi tabù. Viene raccontata come una cosa perfetta. È solo un grandissimo gesto d'amore e nulla da togliere perché per avere un figlio con l'adozione non ci vogliono nove mesi. Ci vuole molto di più. Il figlio si aspetta molto di più e c'è molto più sforzo. Non c'è solo il parto. Però purtroppo non viene raccontato tutto quello che dopo può succedere. E questo conflitto interiore di una persona che soffre nel non sapere quello che c'è stato prima e quindi non riesce neanche ad apprezzare quello che c'è. La protagonista fa un lungo viaggio nella sua vita e riesce da questa negazione verso il presente quello che c'è ad amare questo presente e accettare quello che è stato il passato ma il viaggio è veramente lunghissimo. Passa in mezzo in prima persona un sacco di vicende che poi diventano per l'appunto il tema del bullismo il tema cosa fanno i giovani la sera Ceriano Laghetto ma se tu lo guardi come se fosse un documentario di National Geographic tu sei subito assolto e sei sempre molto comodo in questo libro io ve lo dico ecco non sarete più molto comodi da pagina tre in poi iniziate comodi ma non si va avanti comodi perché c'è il coraggio di raccontare una storia senza poi con una con una asciuttezza cioè non c'è mai uno sbrodolamento retorico non c'è mai niente che sia diverso dai fatti raccontati a volte proprio ti viene da dire no vabbè ma l'hai scritto davvero cioè così ecco lo ha fatto e questo è credo quello che poi resterà voi lettori ed è ripeto il problema che abbiamo noi oggi di riuscire a toccare dei temi abbiamo siamo partiti con l'adozione e questo è uno delle cose che ci sono qua dentro poi c'è anche il cosiddetto bullismo no che è cosiddetto finché non lo subisci esatto nel libro vengono affrontati diverse tematiche sociali molto importanti quindi io ci tengo a dire che sì nel mio caso si tratta di adozione ma poi vabbè il bullismo non c'entra niente di fatto con l'adozione ovviamente parte dall'adozione perché il nucleo centrale è quello di fatto la protagonista affronta diverse difficoltà appunto il bullismo piuttosto che disturbi alimentari e altri tipi di problemi e riesce comunque a raccontare quella che è la realtà vissuta in prima persona senza filtri perché non c'è bisogno di filtri soprattutto nel mondo di oggi non bisogna più nascondersi e poi e poi tutte queste cose ripeto scritte e dentro nel romanzo ci sono una serie di lettere che la protagonista questa ragazza che viene adottata da una famiglia italiana e che sente questo disagio fin da subito e sente questo contrasto tra un dolore che non ha un vuoto una ferita che non ha modo di avere una cicatrice probabilmente mai e dall'altra parte però la gratitudine e l'amore per quelli che sono la sua famiglia in quel momento assolutamente quindi questa è la crepa dove ci si muove per tutto il libro e a scandire questa crepa c'è un un'acrobazia veramente coraggiosissima anche questa ci sono diciamo le lettere di questa ragazza alla sua madre naturale e queste lettere scandiscono buona parte del libro a un certo punto c'è dopo che tu ti sei abituato e sai che ci saranno queste lettere pensi di essere un po' tranquillino anche se hai fatto una gran fatica arrivare lì a un certo punto poi c'è un fiume in piena un fiume in piena che è la lettera che c'è nel libro e che invece è rivolta alla madre adottiva e quello io credo sia il cuore del libro quello che vi travolge cioè lì è un esame di coscienza se la leggete non vi emozionate dovete farvi delle domande perché è impossibile anzi l'avvertenza è quando arrivate a quel punto del libro fate in modo di non essere in treno di non essere in una di quelle situazioni imbarazzanti insomma leggetela tranquilli a casa vostra però ecco è una una scansione ordinata non avete a che fare con gli appunti sparsi di una ragazzina triste non è questo c'è un oggetto libro fatto a regola d'arte da persone che hanno dato una mano all'autrice e dalla passione dell'autrice di fare un oggetto libro che ha tutte le carte di regola per essere un libro che ha questa scansione molto forte e che ha una credibilità e questo non è facile quando si tratta un argomento così forte come quello che hai trattato tu ecco io volevo chiederti questo gioco di prestigio che c'è dentro questa acrobazia di una ragazza adottata che incomincia a scrivere alla madre naturale quella che non vedrà mai e in questo modo in qualche modo riesce comunque a fare una sorta di forma di comunicazione sì infatti come dicevo all'inizio questo libro è nato perché io avevo bisogno di scrivere e avevo bisogno di scrivere a questa mamma biologica mamma che vi annuncio non conosco e che però in qualche modo proprio perché rinnegavo quello che c'era veramente nel presente io avevo bisogno di sentire quindi tutti i miei pensieri come un bambino quando scrive il diario al posto di scrivere caro diario io scrive bocara mamma però era la mamma biologica non era la mamma adottiva poi sì c'è anche questa questa lettera alla mamma adottiva e faccio fatica a leggerla ve lo dico con tutta sincerità anche quando ho lavorato con con la mia editor ho fatto veramente fatica e ad oggi penso che se dovesse rileggere il mio libro la salterei perché io non riesco quello che io volevo fare con questo con questo libro era essere sincera e non potevo non esserlo senza quella lettera non avrebbe mai reso veramente la sensazione di essere un figlio adottivo in uno stato di negazione quindi per me è stato quella la cosa importante e poi le lettere alla mamma biologica di fatto sono nate appunto da una necessità personale in adolescenza perché questo libro comunque si matura dal 2016 quindi era proprio una necessità per non buttarsi in altro di peggio come farebbero tanti altri ragazzi purtroppo della mia età sì certo c'è tutto questo c'è questa lettera incredibile più o meno a metà del libro peraltro dove esattamente dovrebbe essere secondo alcune regole però ecco c'è anche un ponte che è il ponte straordinario anche questo stupefacente in questo libro secondo me che è il ponte della consapevolezza cioè voi arrivate in questo fiume pazzesco dite vabbè adesso è finito e invece no perché tutto quello che succede alla protagonista la protagonista in qualche modo lo analizza con una spietatezza che tu delle volte a meno a me veniva da dire vabbè non esagerare no ma perché questo mio comportamento è dovuto a questo 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 c'è come se ci fosse sempre un auto superamento e che con la consapevolezza poi porta il libro a fortunatamente insomma non è non è un giallo ecco quindi se vi dico il finale non vi deludo però c'è un percorso di cucitura di quella di quella ferita che non probabilmente non sarà mai definitivo perché nessuna ferita si cuce mai in modo definitivo però è grazie alla consapevolezza di questo modo insomma di guardarti sempre quello che stai facendo dopo averlo fatto guardare cosa hai fatto e dagli anche ripeto dei nomi spietati e farti aiutare perché una parte molto bella è il coraggio di farsi aiutare questo c'è nella protagonista del libro che ricordiamo non è ovviamente l'autrice perché solo un pazzo avrebbe scritto un libro così sincero su se stesso esatto un'altra delle cose importanti che sottolineo è proprio questo riuscire a chiedere aiuto perché è una delle cose più difficili adesso pensi se pensiamo ai ragazzi della mia età fanno fatica a dire posso andare dallo psicologo sarò pazzo cosa faccio ma sono malato no è una difficoltà questo è e quindi è necessario chiedere aiuto perché non ci sono altri mezzi poi io appunto questa fortunatamente questa capacità di autoanalisi ho studiato tanto anche cioè questa autoanalisi che tu vedi nel libro è perché io ho anche studiato quello che provavo e questo per prendere appunto consapevolezza di quello che stavo vivendo per sentirmi normale appunto è questo di fatto però l'aiuto terapeutico serve sempre e devo dire che comunque questo è veramente un aspetto importante proprio perché spero che nel leggere il libro chi abbia bisogno decida di rivolgersi appunto a figure di importanza clinica in modo tale che non restino nel loro vagabondare sperino che prima o poi cambi qualcosa questo se volete è la cornice noi stiamo camminando sulle uova perché vogliamo poi che chi compra il libro e lo legge non abbia da questa presentazione un'anticipazione di qualcosa non vorrei che vi sembrasse troppo astratto qui non c'è niente di astratto tutto quello che noi qui stiamo cercando di dire con 200 parole qui lei lo dice con tre e quelle tre spesso sono un pugno nello stomaco questo sia chiaro l'ultima cosa che mi ero preparato poi andremo a caso e magari se ci sono delle domande nell'ultima parte è questa non ne abbiamo parlato finora ma Asha è sia l'autrice sia il personaggio sono volendo se voi scrivete su Google sono quello che un agente di comunicazione direbbe un personaggio perché è stata assessore la più giovane assessore d'Italia quindi vedete no come funziona il meccanismo mediatico fin qui stiamo parlando di una cosa il più giovane assessore d'Italia poi ha fatto dei servizi anche con striscia la notizia in cui con la viola ha cacciato i spacciatori dal parco ha fatto anche una serie di iniziative televisive è stata inventata è stata invitata stavo dicendo inventata ma è proprio vero no è proprio la differenza la cosa bella che c'è in questo libro io le ho dato un solo consiglio ha fatto bene a non seguire ho detto racconta un po' di quello che hai fatto anche con la viola perché la gente ti conosce per questo lei ha detto di no ha ragione perché quello che ha fatto con la viola giusto quello che qui dentro invece c'è quando l'hanno chiamata nei talk show televisivi e qui fa vedere dietro le quinte di come funziona in cui ti dicono come ti devi vestire cosa devi dire ecco quando prendi un essere umano con tutto quello che vuol dire essere un essere umano e lo trasformi in un'attrazione da baraccone in mezzo ad altre attrazioni da baraccone quindi e adesso la leghista indiana che suona la viola dopodiché l'uomo con i baffi che doma il leone il meccanismo mediatico ti distrugge e c'è un racconto qui dentro c'è anche questo e lo vedete da chi lo ha vissuto dentro e da chi ha avuto anche il coraggio che io alla sua età non avrei avuto già adesso non so se ce l'avrei ma alla sua età lei a un certo punto dice sì va bene grazie arrivederci assolutamente sì perché purtroppo quello che ho vissuto è stata una grande fortuna è stata una grandissima bella esperienza però quello che scrivevano sui giornali non ero io io sono quella sono quella protagonista io sono quella persona lì senza filtri appunto questo libro è senza assolutamente nessun filtro non sono Asha la leghista indiana che va a suonare nel parco e scaccia gli spacciatori sì l'ho fatto ma non sono quel titolo dietro Asha la leghista indiana che va a suonare contro gli spacciatori c'è questa persona in realtà e questo per me è molto importante per questo ho deciso anche di rivolgermi a Flavio che è una persona che non guarda i titoli di giornale ma guarda la persona all'elaborato e quindi intanto ti ringrazio Flavio perché è veramente una persona molto molto umana e come ho avuto modo di dirgli lui con questo suo coraggio di buttarsi è riuscito a realizzare anche il mio sogno perché appunto scrivo dal 2016 e questo era penso il sogno della mia vita quindi grazie allora poi adesso facciamo se qualcuno ha delle domande tra poco le facciamo se no iniziamo il rito che non ti avevo detto cioè chiediamo al libro di intervistare l'autrice come va fatto in ogni presentazione che si che si rispetti quindi allora man ho capito che solo se soffri diventi importante sai quando l'altro giorno ho bevuto il detersivo ho creduto che fosse la cosa giusta da fare perché così almeno quelle poche persone che ho vicino potevano rendersi conto che sono viva anche io e che soffro terribilmente a caso ne hai presa una a caso però un po' difficile è così ragazzi io ve lo dico esatto non è e poi stavo tanto soffrendo perché ero triste no sai quando l'altro giorno ho bevuto il detersivo ho creduto che fosse la cosa giusta da fare che gusto aveva secondo te questo detersivo amaro 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 facevo la schiuma dalla bocca mamma mia ecco ma raccontare la disperazione con questa crudezza come si fa? perché appunto come ti dicevo è nato come un diario quindi in realtà è spontaneo e questo bisogno di cui parlo di arrivare a gesti estremi per farsi notare per dire guardate cioè io ci sono sono viva sto soffrendo mi vedete è uno dei tanti metodi degli adolescenti che purtroppo non sanno a chi rivolgersi io poi fortunatamente con i miei genitori con l'aiuto dei terapeuti sono riuscita comunque a chiedere aiuto e questo è sempre il nocciolo della questione nel senso che quello è proprio il disagio di un adolescente che non sa più che cosa fare per farsi notare per chiedere aiuto perché non sa dire sto soffrendo mi aiuti non riesce e quello è uno dei tanti modi con cui lo fa e qui secondo me noi abbiamo praticamente finito con questo botta e risposta io avete visto non c'è trucco non c'è inganno ho preso a caso quando vi dicevo che ogni riga è un pugno nello stomaco è la verità e lei ha spiegato benissimo con questo distacco con questa consapevolezza parlando di quello che in quelle tre righe viene raccontato mettendolo in un contesto e facendo capire che questo libro insomma per chiunque abbia una qualche sofferenza è un elemento di identificazione uno dice aspetta allora non sono l'unico sì esatto perché poi io ho sempre avuto la necessità di leggere e semplicemente io leggevo e dicevo ah sì però è successo anche quella persona quindi sto bene sono normale e quindi è questo il senso principale del libro dovremmo avere ancora una decina di minuti scarsa e quindi se ci sono delle domande viene registrato mi pare questa situazione quindi lì se quel microfono funziona chiedo alla regia quel microfono se no usa il mio vieni eh ma perché se no non viene registrato non viene registrata la domanda fa? sì perfetto Asha intanto ti ringrazio tantissimo perché sono anni che ti seguo in questa tua importante come si può definire ma non c'è una parola perché in realtà tutte le condivisioni che abbiamo avuto hanno avuto una crescita talmente viva vivace e forte Asha mi faceva sempre leggere alcuni pezzi del suo libro che ancora non aveva intenzione di scrivere o forse ce l'aveva come sogno no? e ti vorrei dire adesso dopo questo fantastico e straordinario traguardo che sono felice di condividere con te che hai scritto come un po' cura di te stessa un po' come terapia come forma di guarigione e in questo ti capisco appunto abbiamo fatto tanti discorsi anche sull'arte e sulla terapia ma volendo adesso immaginarti in un proseguo con questa tua avventura che sicuramente hai vissuto nella tua profondità nella tua tragedia nella tua forza nel tuo coraggio e nella tua bellezza d'animo il tuo grande sorriso che abbraccia l'intera umanità ecco la domanda è come ti sentiresti adesso dopo aver comunque scaricato anche un po' di tutto questo tuo travaglio di vita grazie Simona per tutte le bellissime parole allora per me è molto importante è stato difficile scegliere di dare al pubblico la mia vita perché alla fine io sto dando me stessa a quello che sono stata ma io continuerò sempre a scrivere come mi ha mandato mia mamma un messaggio poco fa io scriverò sempre solo per me stessa poi se potrà essere utile agli altri sarà disponibile anche per gli altri ma io prima di tutto scrivo per me stessa perché è la mia terapia domanda no cinque minuti abbiamo cinque minuti ancora capisco che non ci siano domande perché in effetti io credo che abbiamo dato un quadro abbastanza netto di quello che stiamo facendo Asha io questi cinque minuti sono tutti tuoi direi per tutto quello che secondo te non siamo ancora riusciti a dire sappi che se mi ripassi la palla io riapro a caso e comunque sarebbero parole tue quindi scegli quale usare se quelle che hai improvvisi adesso o quelle che hai messo qui dentro allora intanto ne approfitto per ringraziare a te perché come ti ho detto sei una persona veramente gratuita ci tengo a dirlo a tutti lui è una persona gratuita che aiuta gratuitamente senza doppi fini è una persona bellissima io l'ho conosciuto oggi dal vivo appunto ed è una persona veramente meravigliosa ce ne sono poche veramente grazie Marco e allora del libro io non aggiungerei altro più che altro perché appunto essendo questa forte corrente emotiva secondo me andrei a spezzare un po' quello che poi è il complesso ne approfitto per ringraziare le persone che del pubblico e vado un po' in ordine Julienne che è il mio fidanzato e che è anche la persona che mi ha aiutato a risollevarmi tanto è anche uno dei protagonisti è uno dei protagonisti casualmente e quindi ovviamente grazie mille Flavio ti ho già ringraziato poi ti faccio piangere quindi la smetto Simona come hai detto tu io e te abbiamo condiviso un sacco di cose ho voluto metterti nel libro perché sei una delle persone più importanti comunque della mia vita sei la mia India lo sai grazie papà e mamma voi leggerete per la prima volta questo libro mi viene da piangere scusate anche questo però credo sia stato necessario credo sia stato necessario sia il pianto sia anche questa comunicazione di servizio io posso dirvi da diciamo esploratore di queste pagine ho pensato ai tuoi genitori adottivi e è un viaggio che vale la pena fare non c'è niente qui dentro che possa essere minimamente più difficile di quello che hanno affrontato e che affrontano tutti i genitori adottivi e alla fine ripeto non è un giallo non è uno spoiler ma lieto fine è assicurato ogni volta che trovate un fiume impetuoso ogni volta che vi sembra che qui la strada dove sta andando sappiate che c'è sempre qualcosa che porta la protagonista in fondo a quel cammino ed è il coraggio di attraversarlo e l'audacia di raccontarlo che secondo me qualsiasi sia l'esito insomma di di questo pianto sia se che continui un quarto d'ora oppure se sta per finire in ogni caso per i tuoi genitori è veramente un motivo d'orgoglio avere una figlia così perché è un coraggio straordinario davvero vi dico solo che vi voglio un sacco di bene perché sennò continuo va bene i genitori del mio compagno i genitori del tuo compagno grazie per essere qui e Silvia grazie mille lei è la mia insegnante di viola ma è una grandissima amica grazie a tutti grazie 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 anche a quelli che sono in sala e non hanno mai sentito parlare di te e compreranno un libro tutti quelli che non perché poi dopo quando scrivo un libro così tu dici giustamente ci sono tutte queste persone che hai ringraziato ma tu pensa a quelli che non sapranno mai chi sei mai ma ci sarà sicuramente quello che gli finirà in mano non so come però tu gli darai delle risposte entrerai nel suo modo di stare al mondo e sarà una persona che avrà uno strumento in più per attraversare un sacco di difficoltà grazie a te quindi sono io che ringrazio te Asha Fusi ho adottato la felicità Edizioni Effetti grazie mille grazie a te